Sono orgoglioso che Pescara ospiti la nazionale di calcio amputati che si sta preparando per i campionati mondiali che si svolgeranno in Turchia. Sono orgoglioso perché lo sport non è soltanto competizione, lo sport è tante cose e soprattutto inclusione e socializzazione e qui veramente c'è il massimo dell'inclusione. Noi vediamo questi ragazzi con le gambe apputate che fanno cose incredibili, come se avessero tutti gli arti regolari, riescono a fare palleggi rovesciate. C'è una forza di volontà che si vede e si percepisce in maniera unica e quindi io sono contento che loro sono qui perché danno un grande esempio ai ragazzi della squadra della Gladius, i bambini che si allenano con loro e che vedono qual è la forza che spinge questi giovani a svolgere attività sportiva nonostante una menomazione evidente. Renzo Verniani, allenatore della nazionale di calcio amputati, questi ragazzi sono favolosi, i ragazzini li vedevano con ammirazione giocare oggi a Pescara? Sì, quando vedono delle persone che cercano di superare i propri limiti sicuramente è sempre entusiasmante la cosa. Sì, dobbiamo andare in Turchia a giocarci in mondiale e quindi noi siamo un po' ad un livello medio e quindi ci dobbiamo allenare bene. Oggi è un grande test con questi ragazzi che corrono veramente veloci e per noi è tanta roba. Abbiamo notato l'appello fatto dalle autorità a spendere, a investire nelle periferie e aiutare chi è in difficoltà attraverso lo sport. Personalmente credo che le iniziative debbano sempre essere dislocate in ogni angolo della città e questa ne è una prova. Abbiamo voluto scegliere un quartiere periferico di Pescara dove c'è un campo bellissimo che ha una struttura importante che può ospitare un evento così dettagliato e soprattutto un evento di risonanza nazionale. Quindi siamo davvero contenti, abbiamo coinvolto la cittadinanza tutta, abbiamo organizzato un torneo di bambini che partecipano a un progetto che stiamo organizzando e stiamo gestendo da inizio anno con Sport e Salute che si chiama Fuori Classe e abbiamo tutti gli ingredienti per poter fare bene, poter attraverso lo sport garantire a tutta la città la stessa importanza.